Volevo rivolgere un appello a tutti i pugliesi, ho già chiesto a tutti i sindaci della Puglia di essere a Foggia domani, perché domani è la giornata in cui la Puglia intera scende in campo contro la mafia, contro la criminalità organizzata, contro chi vuole impedire ad una città bellissima con delle persone meravigliose di vivere serenamente e di crescere in tranquillità. Domani è una giornata importantissima, forse la più importante dell'anno se mi permettete, perché questa città da tempo viene soffocata da una morsa mafiosa che evidentemente pensa che chi resista alle estorsioni, come è successo, debba essere spaventato e intimidito. Il nostro testimone che ha denunciato le estorsioni è figlio nostro, chi lo tocca avrà a che fare con tutta la Puglia, non solo con le forze dell'ordine e la magistratura. La Regione Puglia si costituirà parte civile, già costituita parte civile nei processi per estorsioni nei confronti degli imprenditori e chi pensa di continuare su questa strada la pagherà carissima, questo glielo posso promettere.